Descriverei lo studio come un luogo di raccoglimento, di confronto anche, ma anche di produttività perché nel momento in cui arrivano altre persone, altre competenze che mi aiutano a sviluppare i progetti, questo diventa uno spazio condiviso e quindi è un luogo di fatto che accoglie gli altri, anche in presenza, per quanto sia uno spazio piccolo, però uno spazio dedicato all'incontro, allo studio, all'approfondimento. Per spiegare in poche parole la ricerca, io dico sempre che non lavoro con i materiali, ma lavoro con le persone e spesso il mezzo audiovisivo, quindi le immagini in movimento, le pratiche multimediali mi aiutano a elaborare, a formalizzare un percorso che di fatto è segnato da una serie di incontri, dialoghi, conversazioni. La differenza rispetto magari a un ricercatore, a un documentarista, a uno studioso è che i miei incontri devono sempre essere formalizzati, perché io credo che la responsabilità dell'artista sia quella di formalizzare la propria ricerca proprio per renderla fruibile agli altri, non in termini di comunicazione, quanto proprio allo scopo di ottenere un equilibrio che spesso è precario tra forma e contenuto, tra estetica ed etica, perché di fatto la ricerca che è così articolata e complessa quanto può esserlo l'animo umano e le relazioni umane, di fatto poi viene veicolata attraverso una videoinstallazione o un workshop stesso, che non è semplicemente un laboratorio, ma ha una sintesi formale che è responsabilità dell'artista e questo credo faccia la differenza anche rispetto al lavoro di educatore. o di ricercatore rispetto proprio al ruolo dell'artista nella società contemporanea. Cerco di partire sempre da un'indagine rispetto alle urgenze in un territorio specifico, può essere un territorio a me vicino o anche lontano. Negli anni mi sono ritrovato a lavorare anche per lunghi periodi in India, a Cuba, in Corea del Sud, in luoghi fuori anche dalle rotte canoniche rispetto al sistema dell'arte, alle grandi città. In Palestina ho trascorso molto tempo e il lavoro nasce sempre dal confronto con la realtà locale, con le persone che ho la fortuna di incontrare che decidono di iniziare un percorso insieme a me. Quindi è un percorso di conoscenza reciproca perché ci si conosce l'uno con l'altro ed è proprio un percorso di formazione allargata, condivisa, collettiva. Io parlo sempre di, tecnicamente si può definire non tanto una comunità locale quanto una comunità di pratica, cioè un insieme di individui che hanno un obiettivo in comune e quell'obiettivo si cerca di realizzarlo insieme, imparandolo l'uno dall'altro. A me interessano proprio i meccanismi di trasmissione di conoscenza nel momento in cui ci si auto-organizza, che sia un gruppo di adolescenti, di rifugiati politici, di anziani, come si può stare insieme, come si possono veicolare delle informazioni. Quindi non è mai un atteggiamento gerarchico, verticale, ma è più la possibilità di creare insieme nuove modalità o riflettere, osservare come un gruppo di persone può sviluppare un'urgenza, un problema, una questione, non tanto risolvendo tecnicamente o praticamente un dubbio, quanto ponendo a confronto strade differenti. E uno dei filosofi più importanti che ha ispirato la mia ricerca al Jedhu Krishna morti in India, descriveva proprio come la verità non è una strada definita, ma è una terra senza sentieri. Di fatto quello che mi porta sempre a ripartire, tra pochi giorni riparto per l'Albania, per questo nuovo progetto, South of Imagination, e di fatto il desiderio è quello di andare in luoghi decentrati, fuori dalle rotte canoniche, non tanto per scoprire nuove modalità, quanto per osservare epistemologie alternative. Quindi di fatto modalità di anche conoscenza che siano non omologate, ma guidate dal senso comune, come in alcuni luoghi ancora è il senso comune a prevalere rispetto alle modalità egemoniche che stanno ormai da molti anni definendo anche gli equilibri rispetto proprio alla conoscenza, rispetto alla cultura in generale. In questo caso l'ispirazione è Boaventura de Susa Santos, che è un filosofo, giurista, sociologo portoghese, che mette in luce in qualche modo le epistemologie del Sud e quindi come territori, quindi non tanto un sud geografico, ma rispetto al concetto di Global South e quindi cerca di capovolgere Boaventura de Susa Santos quello che viene definito un sud globalizzato, mostrando appunto come il sud del mondo può indicarci delle vie alternative, anche rispetto a quello che noi conosciamo o ai percorsi di conoscenza standardizzati. Quindi questo viaggio mi porterà in diversi luoghi ancora in Palestina, in Egitto, in Marocco, non sono luoghi connotati come Global South, ma sono luoghi in cui ho identificato delle realtà iniziative di artisti che sono ben radicate nei territori specifici e allo stesso tempo stanno riformulando, riconsiderando, riattivando attraverso dei veri e propri atti di resistenza le nuove generazioni che vivono in quel contesto. Quindi il mio è un percorso di autoformazione perché sarò io stesso ad imparare dagli altri e allo stesso tempo credo che questo percorso mi porterà a trovare una nuova motivazione per ripensare appunto la relazione tra arte ed educazione che è il cuore della mia ricerca. Credo sia un po' alla base della motivazione del fare arte, cioè quanto oggi il sistema dell'arte sia molto complesso, rizomatico, allo stesso tempo può accogliere ricerche inconsuete che non sono standardizzate e questa è la mia esperienza. Quando mi trovo davanti gli studenti mi chiedono come è possibile fare arte, come è possibile lavorare con una galleria, lavorare con il mercato, produrre, vendere, il mio primo obiettivo è proprio quello di spiegare che si può proseguire il proprio percorso di ricerca anche semplicemente lavorando con le istituzioni pubbliche e questo è con bandi, commissioni, musei, fondazioni e via dicendo. E questo è strettamente legato, a mio avviso, alla questione della responsabilità e quindi una questione è essere completamente liberi rispetto alla produzione e una questione è dover comunque seguire delle regole. Questo lo noto soprattutto nei ragazzi, negli studenti che cercano di comprendere qual è la formula per ottenere successo, per avere riscontri, per avere un finanziamento, per poter produrre la propria opera, per partecipare a un festival o fare una mostra e questo formulare non esiste chiaramente. Quindi io ognuno consiglio di seguire il proprio percorso rispetto alle proprie urgenze e credo che la responsabilità di un artista oggi sia proprio quella di essere coerente rispetto alla propria motivazione e allo stesso tempo riflettere le urgenze degli interlocutori che hai di fronte. E quindi per me fare arte è strettamente legato alla questione della responsabilità perché non ha solo a che vedere con me, come individuo, ma anche agli altri, le persone che vengono in qualche modo coinvolte nei miei progetti, non solo la comunità partecipante ma anche i fruitori, quindi il pubblico. Penso sia una questione di responsabilità individuale e collettiva insieme.